ok, rivediamo, ultima negli occhi suoi lo sguardo che è di felicità lei è radiosa e fiduciosa la sua occasione avrà ho fatto un piano ma ho tralasciato l'appassionalità l'ag come hai potuto non ne verrai fuori non avrei dovuto mai lasciarla danzare buon, molto buon, ok? buon, molto buon, ciao Grazie a tutti.